giudice Carlo Ancona fa parte del direttivo del festival e lei ha scritto per vita trentina una sorta di editoriale intitolato le radici del parco grazie dottor Ancona e grazie a voi per avermi dato questa occasione e anche per come dire averla valorizzata ho visto in prima pagina addirittura non sono abituato a tanto noi ci specchiamo nei bambini sono il nostro futuro la ragione del nostro impegno si vive di responsabilità senza responsabilità non si sarebbe decente alla vita e la responsabilità prevalentemente nei loro confronti stasera oggi pomeriggio qui comincerà anche qualcos'altro la riproduzione cinematografica di alcuni bambini che leggono bambini di trento delle frazioni di trento per la verità che leggono la storia di bambini di cento anni fa di bambini di trento di bambini di un'altra trento una trento montanara una trento antica lontanissima da quella che noi oggi vediamo non è soltanto il luogo della magia della scoperta di un mondo alieno perché non è un mondo alieno la montagna è il mondo da cui veniamo venite voi a trento vengo io dalle montagne dell'alto molise è il mondo in cui sono formati i nostri caratteri non in cui siamo cresciuti o sono cresciuti i vostri nonni o i nostri genitori e aveva tante belle cose questo mondo certo era molto più faticoso molto più povero però ogni tanto fa bene ripensarci a queste radici perché soltanto in questo modo si può avere la forza di tirare avanti e sperare di non perdere tutto in questo mondo globalizzato che annega in una pappa indifferente ogni nostro interesse e ogni nostra idea grazie a tutti